ben trovati amici questa è la rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 11 marzo 2023 cominciamo subito con l'almaracco del giorno per vedere il santo che si festeggia oggi e vediamo un nome noto su cui però bisogna fare delle precisazioni oggi è san costantino ovviamente non è l'imperatore dei romani che liberalizzò il culto cristiano a quel tempo liberandolo dal paganesimo ma è un altro costantino un altro costantino che visse in un'epoca più tardi era il figlio del re di cornovaglia sposò la figlia del re di brettagna e non fu affatto un marito esemplare però rimasto vedovo ebbe una profonda trasformazione spirituale si ritirò in un monastero e poi si dedicò alla conversione delle popolazioni barbare in modo particolare dei pitti che era una popolazione tra le più feroci più le più barbare diciamo così di allora e infatti perse la vita durante uno scontro tra con queste popolazioni che si poi trasformò in un massacro per quanto riguarda i cristiani e cristiani e barbari da lui beneficati che lo contraccambiarono con questa crudele punizione e questo è san costantino bene diamo un'occhiata anche le previsioni del tempo vediamo che sulle marche abbiamo un tempo variabile tempo prevalentemente variabile con cielo fiscato da nubi alte sarà però questa variabilità stabile è un controsenso però si finisce così insomma una variabilità che permane da diverso tempo in serata saranno possibili piovaschi specie sulla costa il clima emite le temperature massime raggiungeranno i 18 gradi le minime si attesteranno e 10 i venti ispireranno da ovest sud ovest il mare però è mosso perché insomma i venti sono piuttosto tesi insomma sono piuttosto forti ed ora apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo che c'è una notizia di cronaca sì perché c'è preoccupazione per l'incremento dei furti che si sono verificati nel nostro territorio fano ed intorni almeno quattro raid nell'ultimo mese ladri filmati svolta nelle indagini dopo la razzia a casa Carloni che ha veramente posto l'attenzione su questo fenomeno dato la notorietà del padrone di casa e c'è stato un quinto colpo un quinto colpo tentato mercoledì a Gimarra donna vede due malviventi ebbene scorribande ladresche ripetute a distanza di diversi giorni l'una dall'altra messe a segno nelle prime ore del buio della sera ai danni di abitazioni condominali in quartieri residenziali quando all'interno non c'era nessuno sono state almeno quattro nell'ultimo mese siamo nel mese di marzo e ancora non è concluso e addirittura si sono verificati sia a fano che a marotta e a mondolfo l'allarme è salito dopo le ultime razzie di mercoledì scorso che hanno visto appunto tra le vittime Mirko Carloni dalla cui abitazione sono stati rubati insieme a denaro vari oggetti preziosi e nella stessa occasione le indagini hanno subito un'accelerazione per l'acquisizione di nuovi elementi investigativi tratti dalle riprese del video e queste riprese proprio stanno per essere studiate per cercare di identificare i malviventi e quindi poi arrestarli questo è un po quello che è la reazione delle forze dell'ordine in merito a quanto sta accadendo ma mi raccomando usate prudenza chiudetevi bene in casa quando siete all'interno e specialmente quando non ci siete cercate di avere dei dispositivi per aumentare la vostra sicurezza e poi a fondo pagina si parla di uno spettacolo che avrà luogo domani domenica si tratta di uno spettacolo alla fabbrica urbana di via Montevecchio domani gli obelisco nero accompagnano il disegnatore Luca Caimmi lo spettacolo è pane allo zolfo e si parla delle condizioni di vita dei minatori che furono impegnati non molto tempo fa dobbiamo dire nelle miniere di zolfo del nostro territorio una vita molto molto dura molto difficile e anche un po malsana dobbiamo dire giriamo la pagina e vediamo una dichiarazione importante del consigliere regionale Luca Serfilippi che tra l'altro è presidente della commissione che si riferisce proprio al tema a cui è dedicato l'articolo l'ata condizionata dai gestori creiamo l'ente unico regionale per se Filippi della Lega il ricorso al tar contro la regione è la prova di un confronto falsato dopo quanto sta accadendo nella provincia di Pesaro Urbino dove la regione ha vociato il piano redatto dall'ata che è l'autorità che sovrintende alla raccolta dei rifiuti e c'è stata questa reazione dell'assemblea dell'ata che intende ricorrere al tar per fare valere lo stesso piano ebbene dice ora di finirla con queste divisioni c'è anche una supremazia dei presidenti degli enti gestori dei servizi i quali condizionano poi le assemblee dell'ata insomma i sindaci sono divisi non hanno più una dipendenza di giudizio e quindi è bene revocare tutto alla regione Marche questo è un po' l'intendimento di Lucas Filippi che ora cerca di fare valere questa sua posizione a livello regionale bisognerà vedere appunto se verranno assunte delle decisioni importanti e a questo proposito ricordiamo che una delle ragioni per cui il piano dell'ata è stato bocciato è che nelle discariche della nostra provincia sono stati diversati molti più rifiuti provenienti da altre regioni sono rifiuti insomma non sono pericolosi però insomma così si abbrevia anche la vita delle discariche stesse e parliamo ora invece di bonifica ambientale perché ieri sono state piantate nuove piante erano 1500 nei pressi del cimitero di Rosciano e di Bellocchi a Fano Rosciano nasce una foresta con 1500 tra alberi e arbusti iniziative di rete e clima su impulso della CIA Conad regista il comune di Fano ebbene ieri sono state presentate anzi sono stati proprio piantati in loco con i bambini della scuola Montessori che hanno così passato una mattinata all'aria aperta e dove hanno piantato questi arbusti questi alberi una bella foresta che darà ossigeno anche alla zona industriale circostante lì siamo a Rosciano ed ora passiamo invece a Marotta a Marotta il titolo è Mosaichiamo Marotta per togliere gli spazi grigi un arredo importante quello che c'è sul lungomare dove i muri di contenimento dove i muri delle passeggiate vengono spesso mosaicati sono mosaici realizzati in modo particolare dagli studenti in questo caso l'artista Cristina Cucchi racconta l'esperienza del lungomare al forum in Tunisia Mosaichiamo Marotta per togliere gli spazi grigi è sempre più internazionale Marotta grazie ad una delle sue eccellenze che si sta sviluppando anno dopo anno con grande successo l'arte del mosaico alcune artiste di Mosaichiamo della città di Marotta sono presenti al forum internazionale del mosaico contemporaneo che si svolge a Sus una bellissima località della Tunisia giornata di esibizioni workshop e incontri che stanno vedendo protagonista anche la realtà marottese quindi è una realtà che sta allacciando rapporti anche all'estero in nome dell'arte questo è veramente bello perché poi l'arte incrementa e valorizza anche il turismo delle nostre località vediamo Senigallia Senigallia si sta facendo bella per l'arrivo della bella stagione Pasqua con le dune sulla spiaggia di Velluto e dal primo aprile si accende il lungomare restano le protezioni delle mareggiate torna l'illuminazione dopo lo stop dovuto alla crisi energetica ed eccole le dune della spiaggia di Senigallia che sono state realizzate per proteggere le strutture balneari Pasqua con le dune sulla spiaggia di Velluto e dal primo aprile si riaccenderanno le luci sul lungomare le grandi manovre di polizia dell'arenile sono state concordate nel corso di un vertice che si è svolto con le associazioni di categoria convocate in comune quindi ci si dà da fare per tempo per rendere bella Marotta. Dobbiamo dire che durante le vacanze di Pasqua generalmente qualche turista giunge in avanscoperta e vedendo una città bella già arredata viene poi incentivato suggestionato a trascorrere in quel luogo le sue vacanze estive e poi a Senigallia si è dato l'addio a Monachesi e gli intitoleremo un luogo della città in centinaia per l'addio a questo personaggio molto noto appunto a Senigallia però il sindaco Livetti frena bisogna aspettare dieci anni secondo la legge per intitolargli una via una strada bisogna rispettare i tempi ha dichiarato Olivetti. Sulla pagina di Pesaro vediamo come l'attenzione del giornale si accentua sulla cura e la manutenzione delle strade. Piano rattoppa buche mutuo da un milione per asfaltare le strade. Bene non era mai accaduto che il comune di Pesaro accendesse un mutuo per rattoppare le strade ebbene questa volta l'ha fatto la cifra non è eccessiva un mutuo si tratta di un mutuo per curare appunto gli asfalti che sono ammalorati. La manutenzione delle strade e avverte questa tabella comporta un mutuo da un milione per le asfaltature. La durata dei lavori è stata fissata in 125 giorni, l'inizio è previsto per la fine di questo mese, la fine di marzo e tra le strade più importanti verranno riasfaltate via Gramsci, via della Liberazione, via Risorgimento, la strada Montefeltro, via Gorizia, via Lombroso e poi i tratti della Statale 16, via Belgioioso, la rotatoria di San Decenzio, la rotatoria di via Solferino e via Andrea Costa. Queste le priorità che spettano per la cura delle strade. In zona mare SOS Bicipolitana, il restyling non può attendere, sarà sistemata la pista ciclabile in Viale Trieste e Baia Flaminia. Questa è un'altra emergenza che deve appunto attirare l'attenzione dell'amministrazione comunale che sembra aver già preso dei provvedimenti. A Candelare invece la pieve è chiusa anche a Pasqua, purtroppo, ma a fine mese i lavori dovrebbero iniziare. Candelare attende i fondi per la messa in sicurezza, Don Cernuschi dice siamo stati abbandonati. Ebbene, per ironia della sorse, all'ingresso della navata a Croce Greca c'è un dipinto che raffigura il Vescovo Sant'Emilio D'Ascoli, protettore dei terremoti. Purtroppo il terremoto invece ha influito in maniera molto dannosa su questa pieve che ha dovuto essere chiusa al culto e ancora i lavori devono iniziare. Una nuova sede per gli ambulanti della Piazza delle Erbe, dietro la chiesa che fronteggia Piazza del Popolo a Pesaro, insieme per gestire affitti e utenze. Saranno spostati in Largo Mamiani con lo spostamento appunto del mercato delle erbe. Dovranno restare lì per parecchio tempo finché i lavori di ricostruzione, di ristrutturazione, diciamo così, di restauro del chiostro che costituisce l'ambiente del mercato dureranno per alcuni anni. Per dar vita al futuro mercato delle erbe, il Largo Mamiani, dove a settembre si trasferiranno le bancarelle di San Domenico, è necessario che gli ambulanti e gli agricoltori si uniscono in una associazione di impresa appunto per gestire gli affitti e le utenze. E poi torna di scena il Biolab, quel laboratorio che viene contestato nella torraccia perché insomma le sperimentazioni, la ricerca che viene fatta viene guardata con sospetto dai residenti della zona. Sul Biolab però il Comune si difende, la strada tracciata porta al Tar. Le contromisure dell'amministrazione comunale dopo il ricorso presentato dai residenti che vengono così evidenziate da questo articolo. Vediamo anche la pagina di Urbino. Gambie utili contro i cinghiali con la legge un'occasione persa. Sperandio, che è presidente dell'Arcicaccia Marche, critica le modifiche sul prelievo venatorio. Ebbene, recentemente è stata modificata la legge 157 del 92, una legge storica per quanto riguarda il governo della caccia. Quali sono le principali novità? Ebbene, si tratta di una legge che tutela la fauna e regolamenta il prelievo venatorio. Con la legge di bilancio è stato aggiornato l'articolo 19 che tratta il controllo faunistico, non dunque la caccia. Infatti per controllo non si intende l'attività venatoria in senso stretto, ma bisogna risolvere le problematiche legate alla viabilità, quelle problematiche che la caccia procura alla viabilità, alla salute e i danni all'agricoltura. Ebbene, non confondere le cose, dice appunto Gabriele Sperandio, presidente dell'Arcicaccia. E qui abbiamo quindi dato un'occhiata al Corriere Adriatico, che possiamo mettere da parte, e prendere in esame il resto del Carlino. Sulla pagina di Fano si apre con l'impianto dei 1500 alberi che è stato fatto ieri in una superficie accanto al cimitero di Rosciano Bellocchi. A Rosciano una foresta con 1500 alberi, i primi piantati dai bambini della Montessori. L'iniziativa promossa da Rete Clima, Enteno Profit, e dalla CIA Conad. Negli ultimi 27 mila metri quadri l'Aset creereà un parco fotovoltaico. Anche qui tutta una zona ambientale dunque verrà valorizzata nei pressi, anzi nella periferia della frazione di Rosciano. E poi parliamo di uno spettacolo, di uno spettacolo, abbiamo visto prima quello che si terrà domani alla fabbrica urbana in via Montevecchio. Ora invece parliamo di uno spettacolo che si terrà nei prossimi giorni al Politeama di Fano. Torna il dialetto. Torna il dialetto con una simpatica commedia scritta da Davide Berardi. Dai Caraibi a Gimarra, ecco l'isola dei fanesi. E beh, insomma, il richiamo è molto puntuale. Ed è subito sold out. E tanto che si aspetta una commedia. Fano ha una tradizione veramente lunga di commedie dialitali. Lo si faceva nel periodo del carnevale, ma poi questo periodo è stato un po' troppo stretto, quindi si è superato anche per le difficoltà di fare le prove da parte delle compagnie. Ebbene, da lunedì si torna a ridere al cinema Politeama con l'isola dei fanesi, la nuova commedia della compagnia teatrale in scena. Questo è il nome della compagnia, una compagnia nuova, che all'indomani dell'apertura della prevendita dei biglietti è già fatto il sold out di prenotazioni per le prime due serate. E quindi occorrerà probabilmente farne anche altre. Tanto da doverne aggiunge subito un'altra, infatti. Appuntamento quindi lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 alle ore 21 e 15. È una commedia che unisce cinema, teatro e varietà con un mix di contaminazioni tra il popolare e il colto, proprio come la tempesta di Scespire. Addirittura c'è un richiamo così importante in questo articolo scritto da Tiziana Petrelli. Ebbene, gli attori sono veramente attori beniamini del pubblico fanese. Troviamo la coppia Massimo Gasperini e Claudia Menghini e poi l'autore Ermanno Simoncelli e poi Giovanni Simoncini, Simone di Ottallevi, Simone di Ottallevi lo conosciamo anche come il Voulon di Fano, Giovanni Simoncini, Enrico Maggini, Marina Rossi, Maria Grazia Mea, Giorgio Falcioni, che dire di Giorgio Falcioni, Florindo Piccini, insomma anche questi sono grandi attori dialettali, Francesco Mirisola, Paolo Tabarretti, Alessio Tinti e Stefania Mori. Alla guida della nave ci sarà l'irresistibile Capitan Cirion al secolo Andrea Omiccioli. E poi anche Nicola Gaggi con la Bugaron Ben, insomma sono veramente una commedia molto molto nutrita di personaggi che faranno certamente passare due ore di allegria agli spettatori. Ed ora passiamo invece ai problemi della città. Ci sono delle rimostranze per quanto riguarda la definizione del casellino, non poteva essere altrimenti, insomma quando si interviene nel territorio c'è sempre qualcuno che protesta, è giusto anche che sia così, siamo in democrazia. In questo caso è l'upus in fabola che si lamenta perché la posizione del casellino di Fenile, quello che dovrebbe dirottare il traffico verso Pesaro, è stata decisa senza nessun coinvolgimento, non sono stati coinvolti né gli abitanti di Fenile né le associazioni della città. L'upus, il casellino, spostiamolo alla trave, questa è la proposta dell'associazione ambientalista. Bisognerebbe realizzarlo fuori del quartiere della trave, all'incrocio tra la provinciale e la nuova bretella di via Baviere e quindi incanalare subito il traffico in autostrada, cioè farlo lontano dal centro abitato in modo da creare meno problemi possibili. Questa appunto è la proposta di lupus in fabola. E poi d'esta discussione anche il nuovo arredo dell'ex area Agip che dovrebbe essere presentato a pochi giorni. Vediamo qui questo articolo del resto del Carlino. Ex Agip, nuove adesioni per rifare i vecchi giardini. Fausto Antonioni e Dino Zacchelli intervengono a favore del ripristino originale dell'architetto razionalista Mario De Renzi, proposta rilanciata anche da Fratelli d'Italia. In questo caso si esprimono sia Dino Zacchelli che è stato assessore all'urbanistica e Fausto Antonioni che è un direttore didattico. Sappiamo che lì il giardino è vicino, l'area è vicino alla scuola, quindi è interessante e utile anche per i bambini che frequentano le elementari della Coridoni. Allora ci sono proposte favorevoli, proposte contrarie. L'upus in fabola interviene anche in questo caso e interviene soprattutto per quanto riguarda il lato di via Montegrappa dove dovrebbe essere realizzato uno spazio attrezzato per il gioco e lo sport, mentre il Movimento 5 Stelle accusa la Giunta di aver proceduto in solitaria senza nemmeno consultare la commissione dei lavori pubblici. Anche qui c'è stata poca concertazione, ci si lamenta. Insomma è un argomento questo che desta vivaci discussioni e vedremo poi qual sarà il rendering che verrà presentato nei prossimi giorni. Sperando che finalmente quest'area abbandonata da decenni ormai da quanto è stato soppresso il distributore di benzina possa essere in qualche modo riqualificata per presentare un buon biglietto da visita a tutti coloro che penetrano in città perché lì a due passi scorre la statale adriatica. Andiamo a Pergola. Andiamo a Pergola e vediamo che è stato dichiarato pergolese dell'anno il professor Belardinelli. Ha sempre dato lustro alla città. Il professore, ora docente all'Alma Mater, è un esempio e un punto di riferimento per i giovani. La cerimonia di consegna del premio avverrà il prossimo 19 marzo al teatro Angel dal Foco. Ebbene il professore, pur avendo insegnato alle università di Trieste e Bologna e in diverse università straniere, ha sempre mantenuto la residenza a Pergola, la sua città natale, dando così lustro alla città. Ebbene Belardinelli si è laureato in filosofia a Perugia. Da 79 al novembre 80, in qualità di borsista della Conrad Adenaure Stiftung, ha studiato all'Università di Monaco di Baviera e poi ha insegnato filosofia del lavoro e filosofia della storia nella facoltà di scienze politiche delle università di Trieste. E poi la sua carriera è continuato. Ha fondato insieme a Luigi Cimino la rivista di filosofia La Nottola e nel suo curriculum c'è l'insegnamento a diverse università straniere. Insomma, un uomo importante, un pergolese, che si è fatto lustro a livello internazionale. A Urbino, una strada impossibile da percorrersi, è quella della Roncitella, una strada con la Brodo, residenti in Trincea. Esplode anche qui la protesta. Vedete le condizioni del manto stradale. Ogni volta che piove diventa impercorribile. Non si può percorrere una strada così. Ci sono poi fessure, buche, avvallamenti, eccetera. Esplode la protesta. Nei giorni scorsi è stata inagibile per diverso tempo. Il dissesto ha messo a rischio l'incolumità di chi transitava. E poi vediamo che si parla di una fusione contestata in quest'altra pagina del resto del Carlino. Sasso Corvaro, auditore. Livio Mercatelli torna sulla questione. A poco più di quattro anni dal voto, tutto è più caro. Sasso Corvaro, auditore, non si doveva fare e si è fatta in maniera non accettabile. Questo è quanto dicono i residenti. E siamo in conclusione. Voglio soltanto dirvi due notizie di sport. Una per quanto riguarda la visse. Eccola qua. La visse. Gerardi sì, di Paola no. La visse va al paglio. Oggi mece salvezza a Siena. Mentre il Fano calcio. Vede un suo dirigente salutare i Granata. Dannelli saluta Fano. Ora il club è migliore. L'ex DS. Ringrazio il presidente e la squadra. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. E se ne va come se ne sono andati tanti, tanti altri. E questo è tutto per il momento. Massimo Foghetti vi saluta. Vi dà appuntamento alle 7 di lunedì prossimo. E vi auguro un buon weekend. Una buona domenica. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie per l'ascolto.